Essere vescovo è un'opera di carità o un lavoro? Come impegno è pari a un servizio importante perché sai che ci sono tante persone, tante situazioni, tante parrocchie e soprattutto quando la diocesi è grande gli impegni sono tanti, quindi non credo che sia un lavoro nel senso classico del termine però un impegno molto grave e molto serio e lo fai perché vuoi bene a questa gente, cerchi di voler bene al Signore e cerchi di servire i tuoi fratelli come meglio puoi. Quale messaggio vorrebbe far arrivare ai giovani di oggi? Di essere dei giovani che non hanno paura del loro futuro, oggi tutto incute paura, io credo che i nostri giovani se amano la verità e la giustizia e mettono questi valori portanti al fondamento del loro impegno non credo che abbiano tutte le carte in regola per riuscire a esprimere se stessi nella vita. Grazie a lei per l'intervista. Grazie.